Ciao amici! Cosa è la mia carina di oggi? Oggi apriremo Ken Dottore Che Ken Dottista? Perché abbiamo fatto il colloquio con le maestre di Arianna Siccome mi hanno detto che è stata molto brava Allora l'ho preso un regalino E c'è in edicola Aspetta, diciamo che abbiamo preso in edicola a 10,99 euro La rivista di Barbie in versione natalizia C'è anche questo da colorare E poi dopo nella confezione c'era Ken Dottore Che poi sarebbe, credo, Ken Dentista Anche perché si vede uno studio dentistico dietro E adesso vi facciamo vedere che cosa c'è dentro Vero Ari? Sì, poi questo qua ovviamente sarà già da colorare Perché come ben potete vedere che sono delle persone Dovrebbero essere Barbie stessi e Shelly credo Si chiamano così se non mi ricordo mai Facciamo vedere cosa c'è allora La rivista è questa qui Guarda che carina questo abbigliamento natalizia di Barbie E poi Ken Dentista e qua dietro ci sono alcuni altri esempi delle professioni Noi abbiamo anche già Ken Cameriere Ken Barista Si E Barbie Infermiera Si Allora possiamo prendere qua Abbiamo questo e questo Esatto E poi gli altri sono tutti E' vero gli altri non ce l'abbiamo Apriamo Da qua, guarda Guardalo da qua sotto, guarda c'è già Ok Vai Tiro Ah ma anche uno spazzolino giallo Si eppure questo Ha pure il Che cos'ha? Il dentifricio? La mano Poi ovviamente noi lo utilizzeremo come dottore Perché abbiamo solo dottoresse femmine Abbiamo la dottoressa e un'infermiera Si E comunque io ho un altro come dottore E' vero E comunque volevo fare bene le scapia Le scapia sono come se dovessi andare a un bambino Amici mettete un bel pollicione Un bel pollicione che vedete per il canale Che cos'è la campanellina per non perdervi nessun altro video Ciao Ciao Come farà Ken a salutare Ciao